In una riunione protrattasi fino a notte fonda per l'approvazione del bilancio regionale, la Regione Marche ha dato anche l'ok alla nuova legge sulla gestione del Parco San Bartolo. Una proposta di legge già fortemente contestata da una settimana dai consiglieri regionali di minoranza, Michela Vitri su tutti, così come dal comune di Pesaro, da quello di Gabice e dalla provincia, che da giorni si sono scagliate contro un emendamento che prevede l'allargamento delle CDA del Parco dagli attuali 5 a 7 membri e quindi l'aumento dei rappresentanti regionali da 1 a 3. Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci già nei giorni scorsi l'aveva definita una occupazione politica indegna, concetto ribadito questa mattina a legge approvata. Una vera e propria occupazione di un Parco che ha bisogno di grande collaborazione istituzionale e di coinvolgimento delle associazioni ambientaliste, degli agricoltori, un equilibrio dei parchi che giustamente diventerà oggetto di un ricorso e quindi sarà ricorso da parte di Federparchi perché ritengono la normativa incostituzionale ed è una frattura istituzionale, abbiamo scritto come comuni di Pesaro, Gabice e la provincia per evitare questo strappo pensando che fosse un'iniziativa di qualche consigliere, invece l'avvallo di ieri significa che è un'iniziativa di tutta la giunta regionale, quindi un atto molto grave da parte della regione, uno strappo istituzionale su un bene che non va occupato ma che va valorizzato, invece mi pare che abbiano in testa soltanto l'occupazione politica del Parco San Bartolo e non la sua valorizzazione.